L'episodio di vessazione sui dipendenti accaduto in un supermercato Conad di Pescara riaccende riflettori sulle problematiche relative ai rapporti fra datori di lavoro e maestranze. Il sindacato CGL, che nei giorni scorsi aveva denunciato l'accaduto, invita lavoratrici e lavoratori a denunciare episodi di mobbing o di comportamenti inappropriati. Intanto la Conad Adriatico, in maniera sbrigativa attraverso un comunicato stampa presso le distanze dall'accaduto senza entrare nel merito dell'episodio. Non possiamo accettare un comportamento come quello che purtroppo abbiamo potuto accertare nei confronti delle collaboratrici del punto vendita di Pescara, spiega in un comunicato Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato della cooperativa Conad Adriatico. Di conseguenza, dopo un'indagine interna e come previsto dal nostro regolamento, abbiamo deciso di procedere alla risoluzione del contratto di affitto d'azienda. Daremo in ogni caso, ha detto Di Ferdinando, continuità le attività del punto vendita garantendo il servizio ai clienti e il lavoro ai collaboratori. Questa è la riprova che, rivolgendosi all'organizzazione sindacale, rivolgendosi alla CGL, si ottengono poi quelli che sono i risultati. Perché purtroppo noi abbiamo a che fare troppo spesso con lavoratori terrorizzati da quelle che sono gli atteggiamenti dei propri titolari, gestori, ma così come in un perimetro come Conad che affida i propri punti vendita a dettaglianti del piccolo imprenditore del territorio, ma così come grandi gruppi. Noi invitiamo i lavoratori a rompere quel muro di omertà che c'è, a prendere coraggio e rivolgersi alla CGL perché noi abbiamo gli strumenti, abbiamo i mezzi per poterli tutelare. Le donne sono più penalizzate nel settore del commercio perché ad oggi la sempre maggior richiesta di flessibilità da parte delle imprese porta a delle condizioni per cui le donne non riescono più a gestire quelli che sono i tempi di vita, lavoro, famiglia. Se veramente un'impresa volesse mettere nelle condizioni una donna di andare via, solo con la flessibilità potrebbe riuscirci. Bisogna far capire che bisogna rispettare le lavoratrici, ma tutti i lavoratori, a prescindere da quello che sia il sesso. Però è necessario dare dignità al lavoro, è necessario mettere nelle condizioni i lavoratori di svolgere il proprio lavoro e di conciliare i tempi di vita.